Il ricambio della massa d'aria che sta interessando da un paio di giorni la regione proseguirà nel corso del fine settimana a dopra di correnti fredde da nord-est che affluiscono verso l'Italia veicolate da un'alta pressione centrata sul mare del nord. Avremo quindi sia sabato che domenica c'è l'imprevalenza sereno su gran parte della regione salvo nuvolosità per nubi bassi al mattino nelle vallate esposte e le correnti in particolare il Tarvisiano dove nelle ore notturne potrebbe anche esserci qualche fase di nevischio poca cosa è anche poco probabile. Sofira Bora moderata in pianura sostenuta sulla costa anche forte sabato sera qualche raffica potrebbe superare o raggiungere i 100 km orari. Farà più freddo progressivamente le minime di sabato saranno intorno ai 2-5 gradi in pianura e intorno ai 5-7 gradi sulla costa domenica potrebbe esserci anche qualche locale gelata oltre che in montagna anche in pianura le massime sabato saranno intorno ai 10-12 gradi domenica intorno agli 8-10 gradi sia in pianura che sulla costa l'inizio della prossima settimana vedrà l'afflusso di correnti sud occidentali più umide in quota e ancora orientali di Bora al suolo quindi avremo sempre vento di Bora da moderato sulla pianura sostenuta sulla costa ma cieli in genere coperti e la possibilità soprattutto martedì qualche debole pioggia su pianura e costa qualche debole nevicata in montagna. Farà piuttosto freddo con massime appena sopra i 6-7 gradi sia in pianura che sulla costa sia lunedì che martedì. e dal salvatore metodo dell'ARPA Arturo Pucillo vi saluta.